Ciao, sono Monica e oggi voglio mostrarvi un'altra grande vettura del nostro showroom. Sto parlando di Peugeot 3008, il top di gamma in versione Allure, 2000 di cilindrata, 160 cavalli, cambio automatico. Il tutto reso ancora più sofisticato da questa nuance bianco madre perla. Peugeot 3008 è adatta a chi desidera un crossover esteticamente fuori dal coro. Vanta infatti interni davvero oriosi, complici il tetto alto e il parabrezza parecchio avanzato. Ora vediamo insieme l'abitacolo. Il volante è compatto, il cambio è automatico e propone uno schermo a scomparsa con tutte le funzioni multimediali, tra cui il sistema di navigazione. Troviamo anche l'head-up display. Tanto spazio e tanta comodità per Peugeot 3008, ma anche raffinatezza ed eleganza grazie a questo allestimento parzialmente in pelle. Vi ho appena mostrato Peugeot 3008 Allure, il crossover francese più ricercato del momento. Massiccio ma con classe. Non fartelo scappare. Vieni a trovarci a Barzago in provincia di Lecco, in via statale numero 17. Noi siamo la Ratti, non solo auto.